Passiamo a questo nuovo vlog Passiamolo tutti quanti insieme Waringale Vlogger Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Duplo sono i tronchi qui guarda C'è duplo Tronchi Bah Vabbè Grazie a tutti Grazie a tutti Allora sono andato praticamente a questo supermercato Che si chiama E' un marzo Marzo per tutto Posso vedere poi dentro E' proprio la forma del marzo Quindi no Adesso proviamo la mixer cola Coca-Cola con birra Questa birra e coca cola E' approvata Allora diciamo che è statico alla mella gommosa Coca-Cola per me Invece molto consigliata E' la Bernier King Se siete qui Se siete qui a provarla Provatela Perché è praticamente una birra Al gusto Al gusto orzata E i supermercati di Berlino Sono pieni di donuts Ma ho preso L'Oreo Donuts Adesso lo proviamo Hunters Assaggiati anche i donuts Oreo E sono buonissimi Ma ovviamente L'Oreo Penso che non l'ha mai incontrato Anche questa Forse questa granella sopra È Oreo Ma la crema Lo so Comunque Buoni La mia palestra ragazza Che mi perseguta Anche a Berlino E mi dice Che non ci sto andando McFit Berlin Raga Permetemelo Una scimmia Per voi Questi sono buonissimi Dust and stick Penso dietro Qua praticamente Dove c'era il muro Questo è dove c'era il muro di Berlino La mia palestra ragazza Dove c'era il muro di Berlino In ritmo Quella Qua praticamente Sonata CheEd Qua praticamente Vali La porta di Brandeburgo, eccola qui, è diventata famosa perché è un monumento come Signifiato della Libertà perché divideva il confine est con ovest fino al 1990, del muro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.